Cosa vuol dire battistrada? Da dove deriva? Molte parole italiane sono polissemiche, hanno più significati. Per quale motivo? Perché spesso nel tempo assumono diversi significati. Osserviamo adesso la parola battistrada. Adesso il significato di battistrada è la parte dello pneumatico che tocca l'asfalto. Ma anticamente battistrada era il servo che precedeva a cavallo la carrozza dei signori e preannunciava il loro passaggio. Spesso le parole assumono anche dei significati traslati, diversi significati. La lingua italiana riserva molte sorprese perché moltissimi termini cambiano significato nel tempo e il termine battistrada ha assunto nel tempo diversi significati. Il significato traslato di battistrada è aiutare qualcuno nello svolgimento di un compito. Fare da battistrada.